Ha riscosso moltissimo successo la passeggiata per le giornate del FAI e alle sorgenti del fiume Vera a Tempera. Accompagnati da un piacevole sole autunnale, i cittadini entusiasti, grandi e piccini, hanno avuto modo di visitare la riserva regionale. Tornata al suo antico splendore grazie agli interventi che hanno permesso la messa in sicurezza del sito, l'allestimento della sentieristica ed il recupero delle antiche opere di archeologia industriale a cura dei privati, per rendere fruibile a tutti quell'area. Alla scoperta di un luogo unico, della grande bellezza naturalistica, ma anche custode di antiche tradizioni locali aquilane. I visitatori, tra i quali tanti aquilani che ne ignoravano l'esistenza, hanno partecipato in questa occasione anche all'inaugurazione del mulino Gasparri, che ha rimesso in funzione le sue pale alimentate dalle acque del Vera stesso. Oggi la riserva del Vera è infatti un luogo accessibile e fruibile da tutti, un bene naturale a disposizione della collettività, da tutelare e preservare nella sua integrità.